Ma se io dico PAC oggi, l'esperto presso la rappresentanza permanente d'Italia nell'Unione Europea, cosa risponde? Rispondo che è un processo legislativo ancora in fase di costruzione. Si sta cercando di apportare quelle che sono le esigenze delle regioni, soprattutto per quanto riguarda il secondo pilastro, cercare di evitare che si arrivi ad un piano strategico nazionale unico senza tenere in conto quelle che sono le esigenze particolari e specifiche di ciascuna regione e il nostro impegno è quello di, sulla base delle indicazioni specifiche e tecniche che ci arriveranno, dai coordinamento nazionale, riuscire a portare la voce delle regioni e a trovare una soluzione di compromesso che possa da un lato conciliare la semplificazione di cui tanto si parla a livello europeo e dall'altra però non trascurare quelle che sono le caratteristiche specifiche di ciascuna regione e di ciascuna realtà territoriale. Bene, grazie. Ricordo che proseguirà la Winter School con un appuntamento la prossima settimana, il 10-11 dicembre esattamente, e che maggiori informazioni possiamo trovarle sul sito www.regioni.it nella sezione dedicata proprio ai seminari del Cinsedo.